Vespoke Business Solution Vespoke Business Solution è un progetto ad alto impatto che ha la finalità di supportare metodologicamente aziende o istituzioni finanziarie per la risoluzione di problematiche. La modalità di intervento è un team dedicato di sdabocconi che affianca il team aziendale proprio per il perseguimento dell'obiettivo progettuale. Di fatto ogni progetto Vespoke Business Solution è veramente unico perché è proprio costruito su misura in funzione delle specificità dell'azienda e della tipologia di problematica evidenziata. Sono principalmente tre i vantaggi dell'attivazione di questi progetti. Il primo è di avere una visione indipendente in termini di valutazione, analisi e proposta di risoluzione della problematica. La seconda vantaggio è la possibilità di avere un team dedicato con forte specializzazione ma nello stesso tempo con una capacità manageriale di visione di un problema a 360 gradi. Il terzo vantaggio che hanno queste tipologie di progetti è di avere un supporto metodologico ad alto impatto dinamico ma che utilizza competenze e strumenti avanzati derivanti dall'alta accademia internazionale. Are Expo è un bellissimo esempio di Vespoke Business Solution in cui Sdabocconi è stata richiamata a svolgere un'attività per le proprie competenze di real estate e in particolar modo sugli aspetti economico-finanziali. Are Expo è una società di sviluppo immobiliare che ha per azionisti i soci pubblici più rilevanti del nostro paese il governo, la regione più sviluppata d'Italia, la regione Lombardia e il comune di Milano. Are Expo soprattutto è uno dei progetti di sviluppo più ambiziosi del nostro paese che ha per compito quello di sviluppare l'area dove si è svolta l'esposizione universale Expo 2015. Il progetto prevede la realizzazione di un parco scientifico e tecnologico ancorato su tre funzioni pubbliche un grande centro di ricerca, un campus universitario e un grande ospedale con rango di IRCS. Attorno a queste tre funzioni pubbliche si vuole attrarre grandi investimenti di imprese private in un contesto reso dinamico da una forte cultura dell'innovazione, da una grande infrastrutturazione e soprattutto da un sito che non è caratterizzato dal degrado che spesso invece caratterizza molti luoghi dove ci sono stati dei grandi eventi. Gli obiettivi del progetto di Bespoke Business Solutions per Are Expo sono essenzialmente proprio quelli di portare le migliori pratiche metodologiche nell'ambito della soluzione del problema di Are Expo che rappresenta un grandissimo progetto di rilevanza internazionale, di grandissimo impatto sociale e quindi proprio per questo ci siamo prefissi obiettivi largamente sfidanti perché ci piace l'idea di poter contribuire su un progetto di così grande rilevanza. Are Expo rappresenta un modello con cui attrarre gli investimenti in Italia. Sdabocconi ha fornito il supporto metodologico sotto il profilo economico e finanziario del progetto. Da un lato portando la sensibilità e le esigenze e il punto di vista dell'operatore privato che si candida a diventare partner di Are Expo. Dall'altro ha curato la tenuta economica e finanziaria del piano industriale di Are Expo. Un'azienda deve farsi affiancare metodologicamente nella risoluzione dei suoi problemi quando ha bisogno di integrare un punto di vista di uno degli interlocutori del processo con cui necessariamente deve raggiungere l'obiettivo. Si sceglie Sdabocconi primo per la professionalità e l'esperienza a livello internazionale ma soprattutto per la capacità che noi abbiamo trovato di integrarsi in una squadra in cui altre competenze necessariamente devono essere gestite in un'unitarietà. Aver partecipato e aver visto come Are Expo è stato in grado di gestire un progetto complesso mettendo insieme competenze amministrative, giuridiche, economiche di vario tipo di rispettare i tempi, di porsi progetti ambiziosi è stato per me estremamente positivo e è veramente stato un onore per me partecipare al progetto. Inoltre ritengo che questo progetto abbia creato una metodologia di analisi che è ampiamente trasversale ed esportabile ad altri contesti e credo quindi che darà un grosso contributo al Paese non soltanto dal punto di vista dell'impatto economico immediato ma anche dal punto di vista del modello e dell'esempio che potrà dare a progetti simili.